Mi stai piacendo caratterialmente, mentalmente Mi piaci quando dici le cose senza aver peli sulla lingua Quindi brava Pami, continua così Unica cosa, io avrei reagito diversamente di fronte alla nomination fatta da un amico Che dice di nominarmi perché lo fa per strategia Perché Pami secondo me i rapporti umani hanno più valore della strategia Tu vai avanti per il tuo percorso Gioca come se stessi giocando la partita più difficile a paddolo che vuoi vincere Concludo facendoti un gesto che per noi vale più di mille parole Ed è questo, lo sai Dai Pami, mi raccomando, fino alla fine provaci Ti aspetto, anzi ti aspettiamo sull'altra isola il più tardi possibile Prova fino alla fine Ciao amore Mi amo, grazie Cosa vuol dire quel gesto Pamela? Grazie Ilari Vuol dire amore, quindi prima di partire ho detto io ti saluterò così Perché sei sempre con me fino alla fine Quindi è la simbologia dei gesti E quindi i simboli vuol dire amore Grazie a tutti